Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi video unboxing, ho un po' di posta messa qui da parte che dovevo smaltire e quindi ne approfitto per fare questo video. C'è anche una chicca potteriana che mi conserverò per la fine. Ma direi di cominciare subito, visto che ci sono un po' di pacchetti, e partiamo da questo che mi arriva da Universal Picture Home Entertainment. Vediamo cosa c'è all'interno. Intanto bisturi sempre alla mano, mi facevate notare che uso questo bisturi da tre anni e ragazzi non ho mai cambiato la lama e funziona ancora alla grandissima. Quindi continueremo così ed ecco qui. Sono arrivati dei Blu-ray, me l'avevano detto. Sono tre cofanetti che contengono tutta la saga fino ad ora di Fast & Furious. Ragazzi, io sarò sincero, non ho visto tutti i film, ne ho visti solamente due o tre, ma li avrei sempre voluti recuperare. Fast & Furious parla di corse grandestine, lo saprete tutti, lo sanno anche i muri. Ed è, ragazzi, tenetevi forte perché l'ho scoperto da poco, è la saga non fantasy più longeva della storia. Infatti siamo arrivati a ben nove film ed è già stato annunciato Fast & Furious 9 perché effettivamente il nuovo film si intitola Hobson Show e invece il prossimo sarà proprio Fast & Furious 9 che in realtà sarà il decimo film. Ma detto questo, ragazzi, io volevo recuperarli, infatti proprio Alessandra di Universal mi ha detto Ok, anche se non conosci per bene tutta la saga, io te li mando così è la giusta occasione per poter recuperare tutti i film. E abbiamo questi tre cofanetti. Nel primo abbiamo naturalmente i primi tre film, dall'uno al tre. E poi abbiamo questo secondo cofanetto che invece contiene Fast & Furious solo parti originali e poi il quinto e il sesto film. Naturalmente, ragazzi, sapete che nei film i protagonisti sono Vin Diesel, Paul Walker e The Rock. E naturalmente sapete anche che il povero Paul Walker a causa di un incidente stradale è venuto a mancare e quindi poi non è presente nei film successivi. Questo credo che lo sappiate un po' tutti. E poi è arrivato anche il terzo cofanetto, questo qui, che contiene gli ultimi tre film della saga. Ragazzi, naturalmente trovate tutti i link sotto in info box e fatemi sapere se siete fan di Fast & Furious e se, naturalmente, secondo voi, ne vale la pena che io li recuperi tutti. Quindi, dateci dentro nei commenti. Passiamo adesso al secondo pacco che invece arriva da Pampling. Ragazzi, vi ricordo che questa felpa che indosso, naturalmente, proviene da Pampling. E utilizzando il codice sconto 7Potter avrete il 20% di sconto su tutto il catalogo Pampling. Il codice è riutilizzabile tutte le volte che vorrete. Detto questo, abbiamo questa maglietta, questo pacchetto che è arrivato, perché non ricordo più assolutamente quale fosse il tema della maglietta. E quindi sono super curioso, quasi come se fosse una maglia sorpresa. Vediamo un po', non ricordo assolutamente. Oh sì, questa mi era piaciuta moltissimo. Io ho un po' un debole per le maglie blu di Pampling. È un colore che mi piace particolarmente. E, ragazzi, guardate che bella questa maglietta. Quando l'ho vista, sono subito impazzito e l'ho presa immediatamente. È praticamente una maglietta a tema anni 90. E abbiamo tantissime icone come Willy, il principe di Bel Air. Abbiamo il genio di Aladdin. Abbiamo Crash. Abbiamo il Game Boy. Abbiamo Doug, la Coca-Cola. Tutte le più famose icone degli anni 90. A me piace tantissimo e credo che proprio la userò tantissimo durante quest'estate. E probabilmente questa qui la metterò durante Etna Comics, perché mi piace particolarmente. Passiamo adesso invece a due buste che mi sono state inviate da due di voi, perché ho fatto degli scambi di figurine. Vi ricorderete che ho aperto un'intera box di figurine panini della nuova serie di Harry Potter. Trovate il video in infobox e naturalmente sul canale. E ragazzi, questa busta mi arriva da Eliseo, con il quale ho fatto un piccolo scambio. Quindi adesso vi farò vedere velocemente cosa c'è all'interno. Uh, c'è anche una lettera. Ma direi che questa qui me la tengo per me e poi la conserverò assieme a tutte le altre. Ragazzi, fatemi sapere se può interessarvi un indirizzo, perché io di solito mi appoggio ad un bar dove loro mi ritirano la posta. E se può interessarvi, lo rendo pubblico, così magari se voleste mandarmi una lettera, un disegno o qualsiasi cosa, sareste liberi di farlo. Fatemi sapere, nel caso ve lo fornirò più avanti in un altro video. Detto questo, ecco alcune delle figurine che mi mancavano. Ci sono tre figurine differenti e poi naturalmente qui abbiamo anche la lettera. E invece questo qui mi arriva da Eleonora. Con Eleonora ho fatto uno scambio un pochino più corposo. Eh, ok, la busta è chiusa benissimo. E all'interno abbiamo un bigliettino. Ti ringrazio tantissimo. Eh, questo qui verrà conservato anche. E poi lei è stata molto più brava di me perché le ha confezionate. Io invece le ho buttate semplicemente dentro la busta. Spero siano arrivate bene. Ma detto questo, ok. Ecco qui. Vediamo quali sono perché ci sono anche delle card. Ok, Eleonora. Le ha impacchettate per bene. Nulla da dire. Abbiamo un paio di figurine dedicate alla Gringot. Questa qui. Poi ce n'è una col basilisco. E poi abbiamo anche la scena del molliccio nell'armadio del Professor Piton. Ma la cosa che naturalmente più attendevo erano le card. Guardate quante me ne mancavano. Sono davvero tante. E abbiamo questa qui di Harry che cattura il suo primo boccino. Molto molto bella. Poi abbiamo Sirius. Abbiamo Harry nella prova del calice di fuoco, se non sbaglio. Madame Maxim con Hagrid al ballo del ceppo. Poi abbiamo queste due dal prigioniero di Azkaban con Ron e Sirius. Mentre qui dall'ultimo film abbiamo Piton, Ron e Harry. Sono davvero molto belle. Queste card sono fatte davvero molto molto bene. Mi piacciono un sacco. E ragazzi manca poco e finalmente finiremo l'album. Ma adesso passiamo all'ultimo pacco. Che è anche quello un po' più importante. Perché è un volume che volevo assolutamente recuperare. Ho aspettato tanto. Speravo uscisse in italiano. Visto che Salani ha tradotto Storia della Magia. La prima versione. Quello diciamo dedicato ai bambini. Quello un po' più semplificato. L'ha tradotto in italiano. E io l'ho acquistato. Ve l'ho anche fatto vedere sul canale. Parlo del libro con la copertina azzurra. Ma non ha mai invece tradotto quello dedicato agli adulti. La versione in copertina rigida della British Library. Che si trova anche su Amazon o su Book Depository. Ad esempio l'ho preso lì. Ma perché avevo semplicemente un buono sconto. Ma vi lascerò i link sotto in info box. Per prenderlo anche su Amazon volendo. È solamente lingua inglese. E costa circa 35 euro. Io alla fine ho optato per l'edizione in copertina flessibile. Che invece ho pagato circa 15 euro. Una cosa del genere. Quindi c'era un gran bel risparmio. E non essendo un libro in italiano. Ho preferito prendere questa versione qui. E non spenderci troppi soldi. Magari un domani dovesse essere tradotto. Allora lo andrò a sostituire un po' più. Diciamo a cuor leggero. Senza aver sprecato 35 euro. Ecco qui. Detto questo. Andiamo a vedere questo libro. Che comunque è molto molto corposo. Ed eccolo qui. Qualora uscisse. Ok ci siamo. Si tratta di Harry Potter A History of Magic. Il titolo credo sia lo stesso rispetto all'altra versione che già ho. Ma quella come vi dicevo è più rivolta ai bambini. È una versione più semplificata. Fatemi sapere se vi può interessare questo libro. Perché secondo me è molto molto bello. Molto interessante. Per prima cosa naturalmente darò uno sguardo io per i fatti miei. Visto che è in lingua inglese. Quindi voglio dare una lettura. Voglio capire qual è il livello di inglese di questo volume. Se è abbastanza comprensibile o se è un inglese molto alto. E quindi magari da sconsigliarlo a chi non è proprio tanto ferrato con l'inglese. Vediamo un po'. Farò le mie valutazioni. Fatemi sapere che nel caso facciamo una bella recensione. Lo sfogliamo assieme e ne parliamo assieme. Comunque l'edizione nonostante sia una copertina flessibile. È molto molto bella perché ha i caratteri in oro Harry Potter. Sia sul fronte che qui sul dorso. Sulla costa. E quindi mi sembra davvero fatta molto molto bene. Mi piace molto. Sicuramente quella lì in copertina rigida sarà ancora più bella. Ma 35 euro. Non volevo proprio spenderceli. Ragazzi fatemi sapere voi sotto nei commenti se avete già acquistato questo libro. Cosa ne pensate. Se mi consigliate di fare un upgrade. E di optare comunque per la versione in copertina rigida. Anche se in inglese. E naturalmente sentitevi liberi di farmi qualsiasi domanda. Sia qui nei commenti che su Instagram. Mi trovate come Antonio.seria. Piccola chicca. Il Museo di Storia Naturale di Londra sta per aprire, sta per lanciare una nuova mostra dedicata ad animali fantastici. È una sorta di parallelismo tra gli animali reali del nostro mondo e gli animali fantastici del regno inventato da J.K. Rowling. E sembrerebbe già confermata l'uscita di volumi simili a questi della British Library dedicati appunto alla fauna del mondo di Harry Potter e editi dal Museo di Storia Naturale di Londra. Quindi ragazzi ne vedremo delle belle. Detto questo io penso di avervi detto tutto per questo video. La smetto di tediarvi. E ragazzi naturalmente io spero sempre di farvi piacere con questi video. Di tenervi 10 minuti di compagnia. Noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. E quindi ragazzi non vi resta che salutarvi. Ciao!